Sevel ha fermato la produzione per il primo turno di martedì 7 gennaio nello stabilimento di Atessa, provvedimento preso a seguito della morte di Christian Terilli, 29 anni, manutentore di Sinergie SRL. L'area dell'Ute 1, in lastratura dove è avvenuto l'incidente mortale sul lavoro, resta sotto sequestro come disposto dal PM di Lanciano Serena Rossi. Per chiarire la dinamica della tragedia, la Procura ha anche disposto l'autopsia sul corpo della vittima che sarà eseguita nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Dopo il tragico fatto che segna il primo incidente mortale sul lavoro avvenuto in oltre 40 anni di attività in Sevel, i sindacati tornano a chiedere maggiore sicurezza e prevenzione in fabbrica. Come richiesto dalla FIOM, le RLS sono state convocate per mezzogiorno del 7 gennaio. Le tute blu della CGL hanno anche chiesto un incontro a FIM e WILM per trovare insieme un'intesa comune sul da farsi. Nel frattempo chiederanno assemblee con i lavoratori per eventuali scioperi. La WILM chiede intanto maggiore prevenzione con informazione e formazione. Il segretario Nicola Manzi. Per fermare questa scia di sangue gli imprenditori devono investire su formazione, informazione e soprattutto prevenzione perché il diritto alla vita, al lavoro e alla sicurezza è un diritto fondamentale che non può essere alienato o messo in discussione in un paese civile come il nostro.